assistere a una scena emozionante, in un luogo dove i sentimenti più nascosti vengono messi a nudo. Questo è il Teatro di Uomini e Donne, un programma che ha dato vita a storie d'amore, e, a volte, di disillusione. Tra le protagoniste, una coppia che sembrava destinata a durare, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, volti amati del Trono Over. Due persone che, dopo essersi incontrate sotto i riflettori, hanno deciso di vivere la loro storia. Tuttavia, le acque apparentemente calme nascondevano un segreto che avrebbe sconvolto molti. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, noto per le sue informazioni spesso dirompenti, l'amore tra Isabella e Fabio è stato macchiato da un tradimento. Fabio, con il suo fascino discreto, avrebbe intrecciato una relazione con un'altra donna dello stesso programma, un colpo di scena che nessuno si aspettava. Isabella, donna di classe e grande dignità, ha scelto di mantenere il silenzio su quanto accaduto, rinunciando a urlare ai quattro venti il suo dolore. Questa decisione le ha fatto guadagnare ancor più rispetto dai suoi numerosi seguaci, che hanno visto in lei una forza inaspettata. Anche se i dettagli della rottura sono stati lentamente svelati, il nome della donna coinvolta resta avvolto nel mistero, stuzzicando la curiosità dei fan che si interrogano sull'identità della protagonista di questo triangolo amoroso. Il giorno fatidico, l'11 ottobre, Amedeo, Venza ha gettato finalmente luce sull'identità della coppia. Confermando sospetti e mormorii, erano proprio Isabella e Fabio. Un annuncio che ha gelato il cuore dei tanti affezionati, che avevano visto in loro una coppia affiatata, un sogno spezzato che ora si infrange davanti a nuove rivelazioni. E così, come in un enigma che non smette di affascinare, la storia continua a suscitare domande, e, forse, un giorno conosceremo completa. Ma fino ad allora, rimane l'intrigante ombra del dubbio, e la lezione di un dolore dignitoso.